Stanotte una banda di ladri professionisti, almeno sei persone, sono entrati dall'ingresso laterale dell'UniEuro di Lugo. Il gruppo di malviventi, a bordo di un SUV rubato, ha fatto eruzione nel negozio, portando via in pochi minuti 20.000 euro di merce, tra tablet, computer e altri dispositivi tecnologici. Il mezzo di trasporto utilizzato, un SUV, è diventato lo strumento con cui la banda è entrata all'UniEuro. Il guidatore ha puntato la zona posteriore del negozio, dove era collocata la saracinesca rinforzata e in retromarcia ha dato alcuni colpi alla saracinesca stessa, riuscendo a sfondarla con il veicolo. Una volta all'interno della struttura, quest'ultima è stata presa d'assalto e i ladri hanno prelevato tutto quello che potevano, caricando il SUV di merce varia, sempre in pochissimi minuti. Nel momento in cui il gruppo di delinquenti si è ritornato soddisfatto del bottino, con lo stesso SUV è uscito dall'UniEuro, attraversando nuovamente la saracinesca ormai danneggiata, per darsi, infine, alla fuga. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti, ma ormai la banda era lontana. In queste ore l'UniEuro di Lugo è chiuso per tutte le verifiche del caso. Oltre ai 20.000 euro di merce rubata, il negozio ha avuto dei danni riguardanti la saracinesca rinforzata, che sarà da acquistare nuova. Inoltre, la banda di maldiventi, al fine di impedire al meglio qualsiasi arrivo delle forze dell'ordine, aveva posizionato un furgone di traverso su una strada nei pressi dell'UniEuro, così da fungere da ostacolo.